Qui siamo nella foresta pietrificata. Il paesaggio è un po' desolato, però questo è quanto. Questo deve essere stato un albero bello lungo. Questo è ancora un po' legnoso, ma non è proprio petrificato da matti. Queste sono le Badlands. E questa è la roba a pelle di elefante, come le chiamano loro. Stefi, dove siamo? Siamo nel deserto di Pinto. E Pinto chi è? E chi l'ha dipinto? Io. Com'è questo viaggio? C'è un sole che spacca le pietre, abbiamo fame, non abbiamo fatto colazione. Siamo qui dalle sette. A me del deserto di Pinto non me ne frega niente. Non c'è neanche un motel, un centro commerciale. Pintado Point. Pintado Point. Pintado Point. E questo vediamo capì. Pintado a circa 5 minuti. È liberare dopo il vitrare, abbiamo fatto attraverso ci Rid dreị del pano che fa ecco questo lì. No. No. No.